Un carissimo saluto e un benvenuto a tutti voi amici e telespettatori in teleionio, eccoci al nostro telegiornale. Vediamo i titoli. In apertura la cronaca. Operazione ultima spiaggia, quattro arresti nel Regino. A Rocca Bernarda scritte ingiuriose contro il parroco. Italo Reale su Sacal, il sindaco di Lamezia si rimetta. A Montauro importante incontro di battito su Calabria e innovazione. Il capitano Losciale lascia la compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno. E poi in chiusura ancora su manifestazioni estive nel nostro comprensorio. A tra poco. Ben ritrovati, iniziamo il nostro telegiornale con la cronaca. Drangheta, operazione ultima spiaggia, quattro arresti nel Regino. Sentiamo. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia nei confronti di Natale Paviglianiti, 47 anni, ritenuto reggente dell'omonima Cosca operante nel territorio di San Lorenzo, Bagaladi e territori limitrofi. Antonio Pannuti, 50 anni, Francesco Leone, 30, ritenuti appartenenti alla medesima Cosca, i quali rispondono del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e Rocco Giovanni Maesano, 70 anni, il quale risponde di concorso esterno nella consorteria Paviglianiti, illecita concorrenza ed estorsione, questi ultimi reati aggravati dalla metodologia mafiosa. Maesano, nella sua qualità di responsabile dell'area economico-finanziaria dei comuni di Bagaladi e San Lorenzo, era considerato pubblico amministratore di riferimento dell'associazione mafiosa. Paviglianiti, Pannuti e Leone sono stati associati presso le rispettive case circondariali di competenza, mentre Maesano è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La misura cautelare scaturisce dalla sentenza di condanna emessa il 30 novembre 2016 dal Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti della consorteria mafiosa Paviglianiti e degli odierni arrestati, ai quali veniva combinata la pena di 18 anni di reclusione per Natale Paviglianiti, 14 anni di reclusione per Rocco Giovanni Maesano, 12 anni di reclusione per Antonino Pannuti e Francesco Leone. L'attività investigativa condotta dal Comando Provinciale di Reggio Calabria nel 2014, convenzionalmente denominata Ultima Spiaggia, da cui è scaturita la sentenza di condanna e l'emissione dell'odierna misura, ha accertato come il comprensorio dei comuni di San Lorenzo e Bagaladi fossero sottoposti al pervasivo controllo della cosca Paviglianiti. Le indagini hanno infatti consentito di documentare come la cosca, oltre a controllare un cospicuo traffico di sostanze stupefacenti, avesse realizzato una totale infiltrazione nel comune di San Lorenzo, riuscendone a condizionare ed orientare ogni attività. Le investigazioni hanno permesso di accertare che l'organizzazione criminale, con strumenti condotte e dinamiche tipiche e consolidate della criminalità organizzata, ha condizionato con il supporto di imprenditori, alcuni dei quali ritenuti affiliati alla cosca Paviglianiti e con la connivenza di pubblici amministratori locali, il regolare svolgimento delle gare d'appalto bandite dal comune di San Lorenzo e Bagaladi, monopolizzato le attività imprenditoriali nel settore commerciale attraverso il controllo delle imprese locali, riuscendo più in generale a condizionare le attività produttive, gestito il traffico di stupefacenti unitamente ad esponenti di altri sodalizi criminali. E sempre per la cronaca riciclaggio in concorso, tre arresti a Cittanova. I carabinieri del NORM della compagnia di Taurianova hanno arrestato Antonio Raso, 35 anni, Saverio Alessandro Fondocaro, 35 anni e Rocco Giovinazzo, 34. Durante un servizio esterno i militari avevano individuato un Audi Q5, la quale, dopo aver attirato l'attenzione degli operanti per via dell'andatura particolarmente circospetta del conducente, è risultato oggetto di un furto perpetrato a Taurianova solo pochi giorni prima. Inoltre, nel corso del pedinamento, gli operanti riscontravano che il conducente, poi identificato in Fondacaro, stava dirigendo il mezzo in un garage di Cittanova, allo scopo successivamente riscontrato di occultarlo. Nella stessa circostanza, i carabinieri appuravano che l'Audi era seguita da un'altra autovettura, con a bordo Raso e Giovinazzo, diretta in quello stesso luogo, dove i tre avevano poi sostituito la targa dell'Audi con un'altra e infine avevano tentato di allontanarsi indisturbati. Solo l'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare e arrestare in flagranza i tre e di sottoporli a perquisizione domiciliare e locale. All'esito dell'attività è stato complessivamente rinvenuto e sequestrato il seguente materiale. Svariati effetti personali trafugati nel corso del citato furto in abitazione perpetrato a Tauranova. Dieci targhe di autovetture, nonché svariate carte di circolazione e certificati di proprietà, il tutto di provenienza furtiva. Due apparati GPS del tipo installato dalle compagnie assicurative a bordo delle autovetture. 31 sedie, 13 termosifoni, una caldaia, 5 centraline di impianti di videosorveglianza e svariati altri arredi. Il tutto oggetto del furto perpetrato il 28 febbraio 2017 presso il centro polifunzionale comunale di Tauranova. Gli arrestati al termine delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi sono stati tradotti presso la locale casa circondariale. Andiamo avanti. Spara contro il nipote al termine di una lite nata per contrasti personali. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Crotone nel quartiere Fondo Gesù. L'uomo del quale non è stata resa nota l'identità al termine di una lite ha sparato contro il nipote che è stato ferito e ricoverato nell'ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha sottoposto a fermo l'uomo che ha sparato. Tentò di aggredire Klaus Davi denunciato nel Regino. Un uomo è stato denunciato alla Procura di Locri per la tentata aggressione ai danni del massmediologo Klaus Davi il 24 agosto scorso a Bovalino. È il risultato delle indagini della Digos e del commissariato di polizia. L'indagato dovrà rispondere di minaccia e violenza privata. Davi si era recato a Bovalino nei pressi dell'abitazione di un pregiudicato della zona dove aveva iniziato ad effettuare riprese video all'edificio. Mentre rivolgeva domande alle persone affacciate alle finestre incuriosite della sua presenza, dal balcone del primo piano si era affacciato un uomo che aveva insultato ad alta voce Davi e lo aveva invitato ad andare via. Da lì a poco Davi era stato sfiorato dal lancio di un vaso che colpì poi un'auto. Subito dopo l'uomo al balcone era sceso in strada con intenzioni minacciose ma era stato bloccato e ricondotto all'interno dell'abitazione da personale della Digos di Reggio Calabria in servizio di vigilanza. A Rocca Bernarda scritte ingiuriose contro il parroco. Sentiamo. Nei giorni scorsi alcune scritte ingiuriose sono comparse sui muri di un'abitazione del centro urbano all'indirizzo del parroco del paese e di un consigliere comunale di minoranza. Nel pomeriggio del 28 agosto si è tenuto un vertice in prefettura avente all'ordine del giorno l'atto vandalico. All'esito della riunione secondo quanto riferisce una nota della prefettura estesa al sindaco e ai destinatari dei messaggi il prefetto di Crotone Cosima di Stani ha inteso approfondire l'azione di monitoraggio in quel contesto territoriale sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica tenuto conto altresì dell'incidenza ravvicinata degli ultimi episodi intimidatori. Il nostro sostegno verso Don Ercole è forte e convinto insieme all'invito ad andare avanti nel suo impegno religioso, sociale e culturale a favore della comunità che gli è stata affidata. È quanto ha affermato il capogruppo del PD in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Sarà a mia cura interessare i ministeri competenti, prosegue affinché sia garantita la crescita e lo sviluppo di una realtà locale come quella di Rocca Bernarda che ha bisogno di interventi mirati e concreti. L'azione di Don Ercole fa paura agli ambienti malavitosi perché la sua è una voce forte, libera e trasparente, sempre al servizio dei più deboli e a favore della crescita e dello sviluppo dell'intera comunità. Non lasceremo da solo Don Ercole e gli si stringerà a fianco e con maggiore energia tutta la gente di questa comunità. Per questo, conclude Oliverio, siamo sicuri che continuerà la sua testimonianza fra la gente di Rocca Bernarda. E a Nicotera si schiantano con la moto contro un muro, gravi due minorenni. E di due giovani feriti gravemente il bilancio di un incidente che si è verificato nella tarda serata di ieri a Nicotera nel Vibonese. I ragazzi, un 14enne e un 17enne, erano a bordo di una moto quando, ad un certo punto, si sono andati a schiantare contro il muro del cimitero. Entrambi sono adesso ricoverati in ospedale. Il più piccolo si trova allo Giazzolino, mentre per il 17enne si è reso necessario il trasporto al pugliese di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, con quest'ultimi che hanno avviato le indagini per capire la dinamica dell'accaduto. Alla Mezzia, Italo Reale su Sacal, sindaco Mascaro si dimetta, non difende la città. L'avvocato Italo Reale interviene sulla questione Sacal, dopo la nota inviata dalla segreteria regionale del PD in merito alla ricapitalizzazione. È evidente che c'è un contrasto tra la segreteria regionale del PD e la città di La Mezzia, ma direi di più precisa reale. Esiste una volontà del PD regionale di colpire l'area centrale della Calabria per difendere una decisione sbagliata del Presidente dell'Aggiunta regionale, affondando l'aeroporto di La Mezzia Terme in un mare di debiti, che saranno la conseguenza della gestione unitaria dello scalo aereo di La Mezzia insieme a quello di Reggio e di Crotone. Se ce ne fosse ulteriore riscontro, c'è il passivo di oltre 3 milioni che si accompagna alla gestione della Sacal e che insieme a quello di Crotone e Reggio il prossimo anno sarà sicuramente molto più alto e probabilmente irrecuperabile. Perché non esiste dubbio? Nessuna regione di meno di 2 milioni di abitanti può reggere 3 aeroporti e sarebbe stato necessario quello che De Felice non è. Una persona competente in materia perché venisse presentato un piano industriale che verificasse ogni possibile opzione per assumere una decisione sensata e sostenibile a favore dei passeggeri e non delle necessità elettorali degli uomini di potere del Partito Democratico. Dispiace che Catanzaro non si renda conto che quello che sta per accadere perché attraverso l'entrata nel capitale di Reggio e Crotone si costruirà un consiglio di amministrazione incapace di decidere sulla base di valutazione economiche, ma schiavo di campanilismi sterili che uccideranno uno dei punti di forza dell'area centrale della Calabria, l'aeroporto. In questo quadro l'unico che si oppone è il privato che è entrato nella SACAL che rischia i propri soldi e non quelli del contribuente, mentre il sindaco di La Mezzaterme sotto scopa per la commissione d'accesso balbetta ed ha dimenticato i proclami a difesa della città in campagna elettorale. Forse anche lui, conclude Reale, dovrebbe valutare di dimettersi visto che non è in grado e per sua responsabilità di rispettare ciò che ha promesso. Alla squalificata segreteria del PD, oggi principale responsabile del fallimento del partito in Calabria, chiedo di confrontarsi con il territorio e di abbandonare il ruolo di vassallaggio verso un presidente di un'aggiunta regionale che forse pensa troppo alle prossime elezioni europee. Bene, ed ora ci fermiamo un attimo per una breve pausa, rimanete con noi. Ben ritrovati, riprendiamo. Si è parlato di Calabria e innovazione nel corso dell'incontro di battito organizzato dall'ex sindaco di Montauro, Pantaleone Procopio, con la partecipazione di politici e docenti universitari. Si parla di economia, di Calabria, di rilancio del territorio. Una riunione questa sera qui a Montauro per fare un pochino il punto della situazione e soprattutto parlare di prospettive. Siamo con l'onorevole Orlandino Greco, consigliere regionale. Secondo lei la ricetta per il rilancio della Calabria? Prima Domenico Menniti mi parlava, dice, in Italia c'è una pressione fiscale e quindi gli imprenditori vanno all'estero. Quindi cosa bisogna fare? Assolutamente, questo è un tema estremamente importante. C'è un tema che è tutto europeo. Non abbiamo mai costruito l'Europa, non c'è mai stata l'Europa dei popoli, dei territori, non ci sono mai stati gli Stati Uniti d'Europa. Tant'è che se noi oggi analizziamo quello che avviene in Lombardia e in Veneto rispetto a due appuntamenti importanti, due referendum importanti dove due regioni richiedono autonomia e le richiedono in ragione di poterle legiferare per evitare che le aziende del nord, quindi non della Calabria dove sono pochissime, possano andare nella Svizzera, nel Lugano e trovare condizioni più vantaggiose. La nostra ricetta è quella di ribaltare totalmente la prospettiva politica ripartendo dai territori, dall'evocazione dei territori, da una strategia che mette in gambo chiaramente progetti di sviluppo legati al territorio, da una guerra che va innescata subito nei confronti dei partiti centralisti, siano essi di destra o di sinistra, che hanno ucciso la speranza in materia come la Calabria, come il Sud, perché le politiche non sono state mai politiche del territorio per il territorio, ma politiche che dovevano rispondere a una logica che era tutta settentrionale. Noi non siamo qua per divendicare, ma per dire che guardate il meridione è fuori questione, è un dato di fatto, dire il questione meridionale ormai è una cosa che non ci appartiene più, noi non siamo la questione, noi siamo la soluzione, basta far capire ai partiti centralisti le potenzialità che la Calabria ha, che il Sud ha in una logica di esaltazione delle differenze dei territori. Si parla di Calabria, della valorizzazione del suo territorio, imprenditori che partecipano pure a questa serata, tra cui Domenico Menniti, del noto marchio Armonblein. Qual è il senso di questa iniziativa e soprattutto cosa significa fare imprenditoria per poter rilanciare questo territorio? Beh, l'iniziativa di questa sera ha poco a che vedere in termini diretti e immediati con lo sviluppo imprenditoriale. Certo è che noi ci scontriamo e incontriamo la politica tutti i santi giorni. Il problema è un problema molto grave e molto serio, perché la politica in questo momento invece di essere un passo avanti è un passo indietro. Stiamo correndo e cerchiamo, speriamo che i nostri politici riescano a riprendere il passo. Faccio un esempio. La Salerno-Reggio Calabria, data come inizio il 1961, è stata terminata dopo 55 anni. In questo lasso di tempo, provate a immaginare, andate indietro con la mente e vedete che cosa è successo. Eravamo alle trasmissioni radio, ora siamo a internet. Nel 1970 eravamo 3 miliardi e mezzo di persone sulla faccia della Terra, oggi abbiamo superato i 7 miliardi, ma non solo. Le risorse del mondo erano al servizio solamente della parte ovest di questo nostro mondo, circa 500 milioni. Quelli che ieri non avevano voce sono quelli che oggi comandano le danze, i cinesi, gli indiani, fra poco gli africani. Per cui è mancata complessivamente una visione per poter impostare un piano strategico. Si finanziano una serie di progetti che sono slegati e non fanno un programma. Per cui noi creiamo questa bella struttura e poi... Ed ora torniamo ad occuparci del problema dei cinghiali e diamo lettura di questa nota a firma di santo testito dell'Unione Generale Coltivatori di Chiaravalle. Il problema dei cinghiali è una questione che andrebbe risolta, tenendo presente il contesto socio-economico della Regione Calabria, con una convergenza ad ampio raggio, attraverso un tavolo di concertazione tra le associazioni di categoria, la politica ed i cacciatori. Oggi non ci sono iniziative che possono ben sperare, essendo latitante sia la politica che le associazioni di categoria, su un progetto comune, mentre si eleva sempre più alto il grido di disperazione dei coltivatori per il duro lavoro dei campi e per la sistematica distruzione dei loro raccolti. A livello regionale e delle ATC si afferma che i danni vengono pagati, ma sono promesse da marinaio, in quanto si indennizza poco e tardi come se a livello rurale si navigasse nel loro. La politica dovrebbe capire che i cinghiali hanno provocato e stanno provocando l'abbandono delle zone rurali da parte di molti operatori del settore, con ricadute negative nell'insieme socio-economico della stessa regione, quindi al danno la beffa, non solo per i raccolti persi, ma anche per l'abbattimento del valore reale dei terreni. La regione Calabria non solo non ha preso e non prende iniziative per eliminare il flaggello cinghiali, ma è assente anche sul piano faunistico venatorio, scaduta dal 2008, sulla legge numero 9 del 1997 e sulla gestione delle somme incassate per il rirascio delle licenze di caccia, destinati per legge al pagamento dei danni, mentre le somme in questione vengono impiegate con molta faciloneria in altri settori. È da tenere presente che la legge nazionale numero 157 è detta chiare e regole sull'attività venatoria ed i problemi dei coltivatori vanno risolti nello spirito della legalità, non con il rambismo o il grillismo, per cui il tavolo sopra menzionato, con i responsabili di categoria, quali l'Unione Generale Coltivatori, la Coldiretti, la Confregicoltura, la CIA e la politica, sarebbe la chiave di volta per avviare un dialogo costruttivo per ridare la tranquillità e la certezza al mondo contadino, il quale da anni all'immane sudore per il lavoro nei campi raccoglie solo delusione ed amarezza per la distruzione dei raccolti. Ed ora passiamo ad altro, il Capitano Losciale lascia la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno al servizio. Dopo quasi due anni, il Capitano Mattia Ivano Losciale è in procinto di lasciare la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno. Il 37enne pugliese di Bisceglie andrà infatti a guidare la Compagnia di Molinella in provincia di Bologna. Al suo posto, a Serra, arriverà un giovane capitano di Caserta, ma proveniente da Partinico, Palermo. Diverse sono state le operazioni portate a termine dalla Compagnia di Serra San Bruno sotto le direttive di Losciale, a testimonianza del proficuo lavoro compiuto dall'ufficiale dell'arma, il quale dunque, a quasi due anni di distanza dal suo insediamento, lascia la cittadina della Certosa. E sarà inaugurata domani alle ore 12.30 la nuova caserma dei Carabinieri di La Mezzia Terme. La cerimonia di elevazione del gruppo Carabinieri di La Mezzia Terme inoltre avverrà alla presenza del Ministro dell'Interno. Madrina dell'evento, la professoressa Simona dalla Chiesa. Alla celebrazione parteciperà anche la fanfara del decimo reggimento Carabinieri Campania, nonché autorità civili, religiose e militari del capoluogo. Ed ora ci spostiamo a Cardinale con questa curiosità. È arrivato con grande sorpresa, addirittura in sella, ad un asino Antonio De Giorgio, detto Toto Ulavienu, in occasione della festa rionale che si è svolta a Cardinale in Rione Ciano. Una serata conviviale con i suoi paesani trascorsa in allegria con canti e balli fino a tardanotte. Inoltre sono stati preparati panini caldi con salsiccia condita da un buon bicchiere di vino locale. Un momento di aggregazione con tanti emigrati presenti all'evento. E' così giù ormai E' un'altra negraccia che ti porti con i suoi paesi. Non c'è tempo per piangere Salvo solo un autobus, mentre guardo la gente mi domando perché mi sembrano tante nuove che mi ascolto con te. E il mio giorno, il mio provera amante e me, è solo il giorno che ho in mezzo a te. E qui, in mezzo al trappico, non c'è un pezzetto di neve, io mi prego perché, mentre nasce la pillola, sto volendo per te. La nuova stagione è alle porte. È prevista per venerdì 8 settembre, dopo le ore 17, la riapertura, l'attività della scuola calcio dell'ASD Chiaravalle Calcio. La società giallonera, per il quarto anno consecutivo, annuncia con un comunicato e attraverso la propria pagina Facebook, che ha aperto le iscrizioni ai corsi di scuola calcio riservati per questa stagione agonistica alle categorie piccoli amici, primi calci, nati tra il 2009 e il 2012, pulcini tra il 2007 e il 2008, esordienti 2005 e 2006, giovanissimi, nati fra il 2003 e il 2004, e allievi, nati fra il 2001 e il 2002. Possibilità di iscrizione anche alle bambine dell'età compresa dai 6 ai 10 anni. Gli istruttori che avranno cura di infondere la cultura dello sport ai bambini e ai ragazzi saranno tutti istruttori qualificati e abilitati UEFA-C. Lo staff tecnico del settore giovanile della stagione 2017-2018 sarà composto, oltre che dai veterani Mantello, Ciancio, Gullì, anche da volti nuovi come Emanuele Catuogno e Antonio Iozzo. La scuola calcio, inoltre, si è finalmente dotata di un idoneo mezzo di trasporto per persone, utile per le gare ufficiali dei vari campionati disputati dalle categorie di ragazzi. L'impegno e il sacrificio della società ha consentito l'acquisto del pulmino, che sicuramente accresce le potenzialità. Le sedute di allenamento si svolgeranno sul terreno di gioco dello stadio comunale Foresta di Chiaravalle Centrale. È possibile rivolgersi per le iscrizioni presso la segreteria di Chiaravalle Calcio, sita nei locali dello stadio, lato tribuna. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 328-115-2341 oppure 345-115-3000. Oppure visitare la pagina Facebook ASD Chiaravalle Scuola Calcio. Una stagione ricca di idee perché lo sport è un mezzo per educare e migliorarsi. Tutto pronto nella Sala di Shan per la festa della Madonna della Pietra in Svizzera, giunta alla 14esima edizione, grazie ad un'idea del comitato preseduto dal dinamico presidente Pino Gullì. L'evento si terrà nella Sala di Shan in Svizzera sabato 2 settembre con la celebrazione di una santa messa alle ore 18 e proseguirà con il servizio di cucina tipica calabrese. Inoltre ricca tombolata e musica live con il gruppo Pensieri e Nuvole. Per informazioni telefonare al 4179 610 3417. Il comitato si augura di intervenire numerosi all'evento. Bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi. Alle prossime edizioni. Grazie a tutti.